ciao a tutti oggi prepareremo il pesto di rucola il tempo di preparazione della ricetta è di cinque minuti circa gli ingredienti sono rucola olio evo parmigiano pinoli o mandorle andiamo via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e le mandorle ed azionare il bimbi per 20 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere la rucola che abbiamo lavato e asciugato l'olio chiudere con il caperchio senza il misurino posizionare la spatola ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 6 spatolando il pesto di rucola è pronto pesto di rucola ideale per condire la pasta farcire crostini e tartine e per accompagnare secondi di carne di pesce grazie e alla prossima ricetta grazie 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 grazie